Ora siamo in attesa delle circolari che dai livelli nazionali dovranno arrivare per disporre l'operatività concreta della vaccinazione per i bambini tra 5 e 11 anni. Noi intanto ci stiamo attrezzando, questa mattina abbiamo dato mandato alle nostre strutture tecniche di lavorare su due canali, il primo riguarderà i pediatri che saranno coinvolti direttamente nella vaccinazione di questo nuovo target di popolazione e il secondo canale sarà quello dei punti di somministrazione degli hub aziendali, quindi nelle prossime ore sarà definito una modalità operativa concreta di realizzazione di questa campagna vaccinale e poi ne daremo notizia pubblica e saranno attivati anche i canali di prenotazione. Come proverete a convincere i genitori di questa fascia, con una fascia molto delicata, a sottoporre i propri figli alla vaccinazione? Lo faremo garantendo, come abbiamo detto, la presenza di professionisti altamente qualificati quali sono i pediatri. L'esperienza di una settimana fa abbiamo messo negli hub, negli ospedali, tutti i pediatri in grado di supportare i genitori in questa scelta. Immagino che ripeteremo la stessa cosa nei prossimi giorni. Come cabina di regia ci stiamo ragionando. Appena avremo il disegno di quest'ultimo pezzo di campagna vaccinale, naturalmente saremo in grado di darvi i dettagli. L'unica cosa che mi sento di dire è che comunque ci sarà personale qualificato che potrà veramente convincere, essere molto vicini ai genitori in questa scelta che qualcuno vive come una scelta difficile.